Musica Colto da un malore dopo aver pranzato in una trattoria, morto un anziano nel centro storico di Fano. Bruccia le potature ma le fiamme lo travolgono, deceduto ad Ascoli Piceno un anziano di 77 anni. Musica Cordoglio e minuto di silenzio in regione per le vittime dell'alluvione, il presidente Acquarogli annuncia un consiglio monotematico, il comune di Senigallia lancia un appello per trovare case in affitto a favore degli sfollati. Musica Sanzionare i bulli della strada e prendere provvedimenti per fermare l'alta velocità, la lettera appello dei residenti che chiedono interventi nelle vie limitrofe al Ponte Rosso a Fano. Scarsa visibilità e veicoli che non rispettano lo stop, Stefano Polligioni torna a parlare della rotatoria di via Moriconi a Fano, il comune ha risposto alla segnalazione confermando che la competenza è di autostrade per l'Italia. Musica Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano il dramma è accaduto oggi all'ora di pranzo nella trattoria di via da Serravalle nel centro storico di Fano dove un anziano sull'ottantina è stato colto da un malore immediati su corsi dei sanitari che hanno tentato di rianimarlo. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, sul posto anche gli agenti del commissariato. Invece ad Ascoli Piceno Giulio Gaspari di 77 anni è morto mentre cercava di spegnere l'incendio divampato in un terreno a ridosso della sua abitazione in via delle Genziane dove l'uomo stava bruciando alcune potature. E' probabile che l'anziano abbia perso i sensi a causa del fumo sul posto, la polizia, i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso. Gaspari era molto conosciuto in città avendo gestito per tanti anni la stazione di servizio e il ristorante esso a Monticelli. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18 in via Carlo Pisacane a Fano con ventremezzi. Ci dicono per un soccorso a persona, probabilmente per aiutare un cittadino in difficoltà caduto a terra. I pompieri hanno dovuto sfondare la finestra dell'ultimo piano per entrare all'interno. E' intervenuta anche un'ambulanza del 118. E alla nostra redazione poco fa è arrivato un video che mostra una violenta lite tra ragazzi avvenuta questa mattina al Pincio di Fano. Come vedete da queste immagini i due sono caduti a terra, sono volati calci e pugni tra l'incredulità dei presenti. Non sappiamo da cosa sia scaturita l'aggressione, ma dalle immagini finali che vedrete tra poco si vedono appunto i due ragazzi rialzarsi e allontanarsi. Vediamo ancora le immagini che scorrono e ci ha inviato, come diceva, un nostro reporter di strada. I due ragazzi poi si spostano verso l'arco d'Augusto e c'è un nuovo scontro fisico, anche in questo caso con pugni. Andiamo avanti con il nostro telegiornale per parlare della protezione civile delle Marche che ha prorogato per tutta la giornata di domani, venerdì 30 settembre, il bollettino di allertamento per criticità idrogeologica, idraulica e per temporali. L'avviso riguarda tutta la regione. E il Consiglio regionale delle Marche ha osservato un minuto di silenzio. Oggi, per testimoniare la propria avvicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione che ha provocato 12 morti accertate e danni ingenti, risulta ancora dispersa la 56enne Brunella Q. Portiamo l'affettuoso abbraccio dell'intera comunità marchigiana alle popolazioni duramente colpite dall'alluvione e mio desiderio è dovere ringraziare ed elogiare quanti si sono prodigati in questi giorni con sacrificio, senso di solidarietà e abnegazione. Lo ha detto il Presidente Dino Latini nel corso della seduta del Consiglio regionale, la prima dopo la tragedia che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre. Alla richiesta del minuto di silenzio ha fatto da sfondo il gonfalone ufficiale della regione, l'istatua lutto. Ricordando anche i numerosi messaggi pervenuti dai consigli regionali di altre regioni, il Presidente ha evidenziato che quando un territorio è martoriato da una simile catastrofe, la solidarietà non è un atteggiamento esteriore, ma la condizione stessa dell'essere comunità. Ma non solo, Cordoglio, nell'intervento di Latini. Una volta esaurita la fase dell'emergenza, ha aggiunto, le istituzioni devono farsi carico di iniziative per la salvaguardia degli assetti idrogeologici. È necessario un impegno condiviso per attuarli concretamente. Non tutte le sciagure possono essere evitate, ma il territorio, a concluso, va rispettato e tutelato. Dopo l'intervento di Latini, ad esprimere Cordoglio e a ringraziare tutte le istituzioni per il contributo fattivo alla gestione della prima emergenza, è stato il Governatore Francesco Acquaroli. Su sua proposta, l'11 ottobre, si terrà una seduta straordinaria e monotematica del Consiglio regionale. Intanto, questa mattina, prima della seduta assembleare, sono stati ricevuti gli atleti del centro ipico alla Bisciugola di Cagli. Il maneggio, fucina, di tanti giovani campioni di sport equestre, tanto da far guadagnare le marche, il titolo di migliore regione d'Italia, è stato gravemente danneggiato dall'alluvione. L'Assemblea, affermato Latini, evidenza i meriti di coloro che in ogni campo esaltano i nostri valori. Questa disciplina richiede un grande impegno, avvicina la natura, agli animali, all'ambiente e quindi al nostro futuro. Grazie per essere un esempio. Il Comune di Senigallia ha lanciato un appello per trovare case in affitto. Infatti, come spiegato in un post pubblicato su Facebook, sono molti i senigalliesi che, a causa dei danni subiti durante l'alluvione, non possono rientrare in casa, non essendo ancora state ripristinate le condizioni di abitabilità. Il Comune, quindi, si è rivolto ai proprietari delle seconde abitazioni affinché diano la loro disponibilità a concedere temporaneamente in locazione a canone concordato il proprio immobile sia mobiliato che libero. La temporaneità può variare da tre a sette mesi, a seconda del tipo di intervento necessario al ripristino dell'abitazione degli spollati, mentre il costo dell'affitto sarà garantito attraverso i fondi stanziati dal Governo. Una volta acquisita formalmente la disponibilità, sarà istituito un elenco ufficiale di mobili che verrà pubblicato per facilitare l'incontro tra domanda e offerta. E torniamo a Farno per dare spazio alle vostre segnalazioni. Partiamo dalle fotografie che ci ha inviato un telespettatore che riguardano il cimitero di Rosciano. Ci piove dentro e fra un po' cade soffitto, ha commentato il reporter di strada, che tramite alcuni scatti ci ha mostrato sia il pavimento bagnato a causa delle infiltrazioni d'acqua sia l'intonaco staccato in più punti. Invece il commerciante Marco Mazzanti e il barbiere di Viada, Seravalle e Nicola Zagaria segnalano quello che hanno definito uno spettacolo indecoroso in pieno centro di fronte a un palazzo storico. Infatti, come vedete dalle immagini, questo scenario si ripresenta puntualmente. I cessini dei rifiuti sono spesso pieni e alcuni sacchi dell'immondizia vengono lasciati a terra. La segnalazione vuole essere un appello agli organi competenti affinché trovino un rimedio. Ci spostiamo nelle vie limitrofe al Ponte Rosso a Farno, dove i residenti chiedono al Comune di fermare i bulli della strada. Sentite. Semafori intelligenti, tutori, riscaldi, chi non rispetta il codice della strada ma non rispetta il cittadino residente deve essere sanzionato. Cioè il sindaco deve mettere in piedi tutti quegli accorgimenti tecnologici che ci sono per perseguire chi non rispetta gli residenti delle zone. E' rivolto al sindaco di Fano Massimo Seri l'appello degli abitanti del quartiere limitrofo al Ponte Rosso, in particolare delle vie Abbazia, Canale Albani, Papiri, a 4 novembre Montegrappa. Al primo cittadino hanno fatto recapitare anche una lettera firmata da 124 persone per chiedere di mettere in atto una lotta decisa al bullismo stradale. Parliamo, hanno precisato nel documento, di coloro che sono totalmente incuranti del rispetto delle norme stradali e sono sempre pieni di disprezzo verso la società e verso gli inermi residenti di queste vie. Non possiamo più sopportare situazioni da far west senza compromettere la nostra salute, hanno precisato. Chiediamo semplicemente il rispetto civile al quale abbiamo diritto. Antonio, quali sono le violazioni che riscontrate e che cosa contestate? Noi siamo preoccupati perché in via Papiri, dove io risiedo, ci sono dei limiti di 30 orari, ma nessuno li rispetta. Tant'è che ultimamente, pochi giorni fa, c'è stato un incidente che ha portato via un cartello stradale. Non vorrei aspettare il morto per poi far sì che le cose siano fatte a seguito di una tragedia. Gradiremmo che sia, per esempio, alzato il dosso che adesso ormai ha un'altezza risibile, che non rallenta per niente. E l'ideale sarebbe magari un semaforo che, accertando la violazione di limiti di velocità, segni il rosso alla fine della via. Ci sarebbe un rallentamento di tutti e una tranquillità di tutti quanti. Renzo, ma anche nelle vie limitrofe la situazione non è migliore? Certamente, anche perché, abietando io in via Don Gentili, ormai da 55 anni, è chiaro che a un certo punto questa situazione la tollero, perché oggi come oggi, stando al traffico che abbiamo, non è più vivibile. Dal momento in cui noi abbiamo una interquartieri, se la si vuole chiamare interquartieri, non ha più ragione di esistere l'alta velocità sul raccordo che da via della Bazzia, via Canale Albani, via Papiria, non hanno più ragione di esistere queste situazioni. Ma noi come cittadini interessa poco il codice della strada, interessa il rispetto dei cittadini residenti. Questa per noi è funzionale. Anche perché queste vie sono vicine a un centro abitato, ma anche a un luogo dove ci sono diversi servizi. Certamente, se noi andiamo al piano regolatore, e i piani regolatori sappiamo benissimo che sono il cuore dello sviluppo di una città, noi non abbiamo rispettato assolutamente nulla di questa situazione, specialmente nella zona del Ponte Rosso. Il piano regolatore, dopo la guerra, prevedeva che tutta la zona Ponte Rosso, quindi via della Bazzia, via Canale Albani, doveva diventare un centro servizi. Centro servizi che è stato limitato evidentemente dal traffico, perché via della Bazzia, ripeto, e via Canale Albani sono strati di alto scorrimento. Non ha più necessità di avere tre corsie. Di conseguenza noi chiediamo che queste corsie vengono limitate a parcheggi, al servizio dei cittadini, perché meritiamo evidentemente questo rispetto. Invece a Rosciano di Fanno i residenti avevano segnalato la pericolosità della rotatoria di via Moriconi. Il coordinatore dell'Udc di Fanno, Stefano Polegioni, che si era fatto portavoce, ha ricevuto una risposta da parte del Comune, ebbene la competenza di quel tratto è ancora della società Autostrade per l'Italia. Polegioni, dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Allora, a questo luogo bisogna fare un percorso un attimo all'indietro. Bisogna precisare che il problema è un problema di viabilità. C'è un pericolo a ridosso della rotatoria che da via Moriconi gira poi per via Papini. Il pericolo è soprattutto per le autovetture che dallo stop di via Papini si immettono nella rotatoria, che non vedono arrivare le autovetture che arrivano da via Moriconi, perché hanno, tra l'altro, una copertura con i pannelli antirumore. Quindi bisogna prendere dei provvedimenti. Allora, questo ha comportato che c'è stata una segnalazione da parte dei cittadini nel maggio del 2022 e dopodiché c'è stata un'ulteriore segnalazione da parte mia, perché non avevamo avuto risposte soddisfacenti al Sindaco e per conoscenza al Prefetto. Da questa segnalazione non ho avuto risposte. Avendo dei dubbi e conoscendo il percorso di questo progetto, ho chiesto all'assessorato e ai lavori pubblici quale fosse la competenza di questa strada. E l'assessorato proprio ieri mi ha risposto, come comunque prevedevo, che la competenza è della Società Autostrade per l'Italia, perché questo percorso è stato costruito dalla Società Pavimental per la Società Autostrade. Quindi non è ancora passato al Comune di Fano? Ora quali possono essere i passaggi? Allora, io ho fatto questo. Ho fatto quello che, secondo me, avrebbe dovuto fare l'amministrazione comunale e il Sindaco, perché noi l'abbiamo messo a conoscenza da tempo di un pericolo. Tra l'altro noi qui abbiamo avuto tempo fa una triste disgrazia e quindi vorremmo evitarne altre. Io comunque ho chiamato la Società Autostrade per telefono, sono stati molto gentili, mi hanno dato tutte le indicazioni di quello che avrei potuto fare. Ho inviato loro ieri subito dopo una segnalazione, dove ho fatto anche delle proposte, e adesso attendiamo quello che saranno i risvolti, sperando che questa situazione venga risolta quanto prima. Incidente tra auto e bici oggi alle 17.30 nella rotatoria antistante alla stazione ferroviaria di Fano. Una 63enne in sella alla bicicletta, impegnato il rondò, quando nella fase di uscita verso via Cavallotti è stata urtata da un'Audi condotta da una fanese di 55 anni. La ciclista, che è caduta a terra, è stata trasportata all'ospedale Santa Croce in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia locale per i rilievi di legge. A Pesaro si aprono domani, venerdì 30 settembre, dalle ore 9, le domande per accedere al Fondo di Sossegno per l'accesso agli alloggi in locazione. Le famiglie avranno tempo un mese per chiedere i contributi previsti dal Fondo Affitti. Le risorse messe a disposizione dal Fondo Nazionale e erogate dalla Regione Marche sono di oltre 7 milioni e 800 mila euro, ma il contributo è determinato sulla base dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE del richiedente. Tutti i dettagli si potranno poi trovare sul sito del Comune, dove sarà necessario presentare la domanda online. Serviranno lo SPID, la carta d'identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi. Il Consiglio Comunale di Urbino ha conferito la cittadinanza onoraria al Corpo della Guardia di Finanza durante una seduta solenne che si è svolta questa mattina al Collegio Raffaello. A ritirare riconoscimento il Comandante Generale delle Fiamme Gialle, Giuseppe Zaffarana. È un segno di gratitudine, si legge in una nota del Comune, per il coraggio e il valore patriottico dimostrato dal Corpo dei Finanzieri, che l'8 settembre 1860 guidò la liberazione della città di Urbino dallo Stato Pontificio, dando un contributo fondamentale nella costruzione dell'Unità d'Italia. Sono seguiti il conferimento del sigillo di Ateneo da parte dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'esposizione degli elaborati, ispirati ai fatti del 1860, realizzati dagli studenti dei licei artistici di Urbino e di Pesaro nel cortile antistante al giardino del Pasquino di Palazzo Ducale. Ad Ancona invece si è svolta la cerimonia per l'avvicendamento al comando della Legione Carabinieri Marche. Il generale di brigata Salvatore Cagnazzo, già comandante del reparto Carabinieri Banca d'Italia, è subentrato al generale di brigata Fabiano Salticchioli, destinato ad assumere a Roma l'incarico di vice comandante delle scuole dell'arma dei Carabinieri. Prosegue fino al 4 ottobre Una città da gustare, l'iniziativa dedicata ai libri, al cibo, alla ristorazione e alla tecnologia con la presenza di amministratori locali ed esperti del settore. Ha preso il via martedì 27 settembre a Fano, la sesta edizione di Una città da gustare 2022, il festival che per una settimana accende i riflettori sull'enogastronomia e l'ospitalità. Il cartellone ricco di appuntamenti prevede convegni, testimonianze, proiezioni di film e visite guidate, sette giornate dense di iniziative, incentrate sui libri, sulla ristorazione e sulla tecnologia. Ieri la Sala Verdi del Teatro della Fortuna ha ospitato un incontro dal titolo Etica, scuola, cibo, prospettive occupazionali e sicurezza negli ambienti di lavoro. Il tema di quest'anno ricorrente era che non si trovava personale, era difficilissimo trovare personale per ristoranti e alberghi, oppure il fatto che i giovani non vogliono lavorare perché prendono il reddito di cittadinanza. Abbiamo cercato di capire attraverso degli interventi proprio fatti dai giovani, abbiamo rappresentato qui tre regioni, dalla Emilia Romagna, le Marche e l'Abruzzo, con scuole che vanno da Giulianova a Rimini, per cui è emerso che i ragazzi hanno fatto delle buone esperienze, ma spesso hanno avuto anche necessità di lamentarsi per il numero di monte ore fatte giornalmente, non avere il giorno libero, non essere stati sempre assunti in maniera regolarissima, per cui ci sono delle cose che vanno in qualche modo riviste. Contestano il fatto che non vogliono lavorare per il reddito di cittadinanza, perché molti di loro tra l'altro non lo percepiscono. Si deve investire nella formazione e nella professionalità dei dipendenti, ha proseguito Pagnoni che auspica un confronto tra i sindacati e mondo del lavoro e della formazione. Domani invece si affronterà la tematica della tecnologia che supporta il turismo e l'enogastronomia. Oggi quando noi programmiamo, facciamo un viaggio turistico, utilizziamo la tecnologia prima, durante e dopo. Prima perché andiamo a visitare i vari siti web dei vari luoghi dove dobbiamo andare. Utilizziamo anche i social per andare a vedere le opinioni che le altre persone hanno espresso. Durante perché facciamo sempre delle foto, poi postiamo sui social, su Instagram e così via. Poi utilizziamo molto la realtà aumentata. Inquadrando con il cellulare, con lo smartphone, il codice QR che si trovano nei vari totem, nelle varie installazioni, riusciamo ad avere notizie dettagliate su quel luogo, su quel castello, su quel museo. Dopo, quando ritorniamo, va bene, cataloghiamo le foto e poi continuiamo a postare sui social e infine facciamo anche dei racconti di viaggio sui blog. Per quanto riguarda il settore enogastronomico, sia nelle strutture alberghiere che anche nelle sale si utilizzano impianti domotici per creare con degli effetti speciali degli scenari di luce e poi anche nelle cucine i forni sono sempre più tecnologici, connesse e intelligenti. Si parlerà del caro Bollette che tanto affligge il ristoratore e gli albergatori per il discorso energetico e quindi cercare di creare energia rinnovabile a prezzo agevolato. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha ricevuto in municipio la delegazione della città gemellata di Wolfsburg. Nell'incontro, oltre ai rappresentanti tedeschi, erano presenti gli assessori Ette e Lucarelli, Barbara Brunori, Dimitri Tinti e il dirigente al turismo Davide Frulla. Abbiamo condiviso la volontà di creare un interscambio culturale, ha raccontato Seri. Wolfsburg è una città giovane con 85 anni di vita caratterizzata da un tessuto industriale unico in Europa, cappeggiato dal gruppo Volkswagen, mentre Fano ha un importante patrimonio storico e culturale. Questo, a concluso, permette un reciproco scambio che favorisce la crescita delle rispettive comunità. Chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento con occhio ai giornali, che ci sarà domani mattina alle 7 in diretta. Buonasera a tutti.